Dopo il tempo del deserto, adesso è il tempo di piano effetti Dopo il tempo del deserto, adesso è il tempo di piano effetti Dopo il tempo del deserto, adesso è il tempo di piano effetti Dopo il tempo del deserto, adesso è il tempo di piano effetti Dopo il tempo del deserto, adesso è il tempo di piano effetti Dopo il tempo del deserto, adesso è il tempo di piano effetti Grazie a tutti.